Il pianto di un bambino è diventato uomo, le lacrime di chi è diventato campione del mondo di Formula 1 per la prima volta, per restarci da tre anni. E oggi o tra una settimana lo sarà per la quarta volta, per diventare leggenda in alto nell'Olimpo sul podio con Prost, dietro a Schumacher e Fangio. Da far venire i brividi anche a chi si sente il migliore, ma non riesce a esserlo nel risultato finale, se non nei complimenti che tutti gli fanno, avversari compresi. Evidentemente uniti nel tentativo di svegliare quel bambino diventato uomo, dal suo sogno incubo per gli altri. Buongiorno e benvenuti alla terza edizione del Gran Premio d'India. Spota in go poi via, 60 giri di strategia, di attesa, di sfide, in una parola e in un numero di Formula 1.